Il ladro onesto Una volta, un mattino, quando ero ormai del tutto pronto ad andare in ufficio, entrò nella mia stanche a Grafiena, la mia cuoca, la vandaia e il governante, e attaccò discorso. Era stata fino ad allora una donna taciturna e semplice. Non si era spinta mai, oltre le due parole quotidiane, su cosa cucinare per il pranzo. In sei anni non aveva quasi aperto bocca, o perlomeno io non l'avevo mai sentita aprire bocca. Eccomi, signore, mi rivolgo a voi, come ciò tutto a un tratto, per sapere se non affittereste la cameretta. Quale cameretta? Ma quella accanto alla cucina, si sa. Come mai? Come mai? Per la ragione per cui si prendono inquilini in casa. Perché se no? Ma chi l'affitterebbe? Chi l'affitterebbe? Un inquilino la prenderebbe in affitto. Chi, se no? Ma là, Madre Santa, non si riesce neppure a sistemare un letto. Lo spazio sarà troppo angusto. Chi potrebbe mai viverci? E chi dice che bisogna viverci? È sufficiente avere da dormire. Vivrà sulla finestra. Su quale finestra? Come se non lo sapeste. Su quella che c'è in anticamera. Se ne starà seduto a scrivere, a cucire o a fare altro. Magari si sistemerà sulla sedia. Ha una sedia e anche un tavolo. Non gli manca niente. E chi sarebbe? Ma è una brava persona. Un uomo navigato. Io gli preparerò da mangiare. E per l'alloggio e il vitto richiederò solo tre rubli d'argento il mese. Finalmente, dopo lunghi sforzi, seppi che un uomo di una certa età era riuscito in qualche modo a persuadere Agafievna ad ammetterlo nella sua cucina come inquilino e parassita. Quando ad Agrafiena veniva un'idea in mente, bisognava a tutti i costi lasciarla fare. Altrimenti ormai sapevo che non mi avrebbe lasciato in pace. Quando qualcosa non andava a genio, si faceva subito pensierosa e sprofondava in una cupa malinconia, conservando questo stato d'animo per due o tre settimane. In quel frattempo il cibo si guastava. La biancheria veniva a mancare. I pavimenti non erano lavati. Insomma, accadevano molte cose sgradevoli. Avevo da tempo notato che questa donna silenziosa non era in grado di prendere una decisione né di soffermarsi su un pensiero che fosse esclusivamente suo. Ma se nella sua debole mente, per qualche inconsapevole ragione, si stava ormai delineando qualcosa di simile a un'idea, a un'iniziativa, impedirne la sua realizzazione sarebbe stato come ucciderla moralmente. E perciò, dato che amavo la tranquillità più di tutto al mondo, la consentì senza indugio. Ma ha almeno un documento d'identità? Un passaporto o qualcosa del genere? Come no? Certo che ce l'ha! È una brava persona, un uomo navigato. Ha promesso di dare tre rubli. Dindomani stesso, nel mio modesto appartamento da scapolo, compariva un nuovo inquilino. Ma io non mi sentivo irritato, anzi. Ero persino felice per me stesso. Vivevo da sempre isolato come un vero eremita. Di conoscenti non ne avevo quasi. Uscivo di rado. E dieci, quindici anni e forse più di isolamento, a tu per tu con una grafiena, nel mio appartamento da scapolo, non erano certo una prospettiva troppo allettante. Quindi, in quello stato di cose, una persona in più, e anche quieta, fu come una benedizione del cielo. A grafiena non aveva mentito. Il mio inquilino era un uomo navigato. Dal passaporto risultò che era un soldato in congedo. Ma questo io lo scoprì anche senza guardare il passaporto, fin dalla prima occhiata. Fu facile accorgersene. A Stafi Ivanovic, il mio inquilino, era uno dei migliori tra loro. Vivevamo bene insieme. Ma la cosa più bella erano gli episodi e le storie della sua vita, che sapeva talora raccontare. E con il tedio della mia esistenza di allora, un simile narratore era semplicemente un tesoro. Una volta mi raccontò una di queste storie. Essa mi fece una certa impressione. Ed ecco in che circostanza avvenne. Una volta restai solo nell'appartamento. La Stafi e Grafiena erano in giro per i loro affari. A un tratto senti entrare qualcuno nella seconda stanza e mi sembrò un estraneo. Uscì. Nell'anticamera c'era effettivamente uno sconosciuto. Un uomo di bassa statura in finanziera, nonostante il tempo freddo e autunnale. Che cosa cerchi? Impiegato Aleksandrov, abita qui. Non c'è nessuno qui con quel nome, fratello. Addio. Come mai il portinaio ha detto che era qui? Disse il visitatore, arretrando prudentemente verso la porta. Vattene, fratello. Vattene. Va via. Il giorno seguente, dopo il pranzo, mentre la Stafi Ivanovic mi misurava la finanziera che stava rimodernando, di nuovo qualcuno entrò in anticamera. Discusi la porta. Il signore del giorno prima, sotto i miei occhi, sfilò con tutta calma dall'appendiabiti il mio mantello, slufficò sotto il braccio e si precipitò fuori dall'appartamento. Agrafena, che era rimasta per tutto il tempo, con la bocca spalancata per lo stupore, non aveva fatto nulla per difendere il mio mantello. La Stafi Ivanovic si lanciò all'inseguimento del furfante e dopo dieci minuti tornò tutto affannato. L'uomo era sparito, svanito nel nulla. Che disdetta, Stafi Ivanovic. Meno male che vi è rimasto almeno il cappotto. Altrimenti mi avrebbe lasciato proprio nelle peste. Ma Stafi Ivanovic sembrava così colpito dall'accaduto che guardandolo mi dimenticai persino del furto. Non riusciva a riprendersi. Ogni minuto abbandonava il lavoro che stava facendo e ricominciava a raccontare l'episodio. Come era accaduto? Come lui si era trovato lì proprio a due passi e sotto ai suoi occhi era stato preso il mantello e tutto aveva preso una piega tale per cui alla fine era risultato impossibile acchiappare il ladro. Poi riprendeva il lavoro per abbandonarlo subito dopo e io lo vidi andare dal portinaio per raccontargli l'accaduto e redarguirlo perché nel suo palazzo accadevano fatti simili. Dopodiché tornò e preso a rimproverare anche a Grafiena. Poi si rimise al lavoro prontolando ancora a lungo tra sé su come era avvenuto tutto il misfatto e su come noi si fossimo trovati lì a due passi e il mantello fosse stato preso sotto i nostri occhi e così via. Insomma, Astaf Ivanovich, pur sapendo fare il suo lavoro era un uomo davvero meticoloso e un faccendone. Se l'hanno fatta, Astaf Ivanovich, gli disse la sera mentre gli porgevo un bicchiere di tè e annoiandomi lo spinse a raccontare ancora una volta della scomparsa del mantello. A forza di essere continuamente ripetuto e grazie alla profonda sincerità del narratore il racconto aveva finito per diventare assai comico. Eh sì, se l'hanno fatta, signore. Mi fa davvero rabbia. Mi infurierai anche se non fosse il mio mantello che è sparito. Per me non ci sono al mondo canaglie peggiori dei ladri. C'è chi prende senza faticare ma un ladro ruba il frutto del tuo lavoro del tuo sudore, del tuo tempo. Che schifo! Fa così rabbia che non viene voglia neppure di parlarne. Come mai, signore, non vi rincresce per la vostra roba? Già, è vero, Astafi Ivanovich. Sarebbe meglio lasciar bruciare un oggetto piuttosto che cederlo a un ladro. Questo non lo si vorrebbe mai. E chi lo vorrebbe? Certo, ci sono ladri e ladri. Ma a me, signore, è successo una volta di imbattermi in un ladro onesto. Come? In un ladro onesto? Come può un ladro essere onesto, Astafi Ivanovich? Eppure, signore, è la verità. Quale ladro può mai essere onesto? Non ve ne sono di ladri onesti. Intendevo dire che vi era un uomo che sembrava onesto e che tuttavia ha rubato una vera pena. Ma come successe, Astafi Ivanovich? Successe due anni fa, signore. Allora mi capitò di restare senza lavoro per quasi un anno. Ma quando ancora avevo un posto, con me fraternizzò un uomo finito. Fraternizzammo in una bettola. Era un ubriacone, un poco di buono, un parassita. Aveva prestato servizio in passato da qualche parte, ma era stato cacciato per la sua ubriachezza. Un tipo talmente indecoroso che girava con indosso chissà cosa. A volte ci si chiedeva se avesse persino qualcosa sotto il cappotto. Si beveva tutto quel che gli capitava. Tuttavia non era un'attacca briga. Era di indole mite e così affettuoso, buono e non chiedeva mai l'elemosina. Ne aveva vergogna. Quando vedevi che il poveretto aveva voglia di bere, gli offrivi un bicchiere. E fu così che fraternizzammo. Cioè, che lui si attaccò a me. A me non importava. Che uomo era? Ti si affezionava come un cane. Facevi un passo e lui dietro. E ci eravamo visti solo una volta. Quel mingerlino! Da principio mi chiedeva il permesso di pernottare e io glielo accordavo. Avevo visto il suo passaporto ed era in ordine. Era come se non ci fosse. Poi lo lasciai per notare da me anche il giorno seguente e quello dopo ancora e l'intera giornata rimase seduta sulla finestra. Restò pure a dormire. Ebbene, pensavo, deve essersi proprio affezionato a me. E bisogna dargli da bere, da mangiare e anche da dormire. E' così che un pover uomo si ritrova anche un parassita sulle spalle. E prima di venire da me andava da un impiegato. Si era attaccato a lui. Si ubriacavano sempre insieme. E l'impiegato divenne un ubriacone e morì per un dispiacere. Il nostro si chiamava Emeliei, Emelian Illitz. Non facevo che pensare a come fare con lui. Di scacciarlo mi vergognavo. Me l'incresceva. Un uomo così misero, così alla deriva, nelle mani di Dio. E così muto. Non chiedeva nulla. Se ne stava seduto e ti guardava negli occhi, come un cagnolino. Ecco come il vizio del bere distrugge l'uomo, pensavo fra me. Come potrò dirgli vattene, Emelianuska, va via. Qui non hai nulla da fare. Sei capitato dalla persona sbagliata. Presto non avrò nulla neppure io da mettere sotto i denti. Come potrò mantenerti? Stavo seduto e pensavo a come avrebbe reagito quando glielo avrei detto. Ebbene, mi immaginavo come mi avrebbe fissato ascoltando il mio discorso. Come sarebbe restato a lungo, seduto, senza comprendere una parola. E come si sarebbe poi alzato dalla finestra e avrebbe afferrato il suo fagotto. Mi sembrava di vederlo, rosso, a quadretti, tutto bucato, nel quale aveva avvolto Dio sa cosa e che portava ovunque con sé. E come si sarebbe aggiustato il suo capottino perché apparisse decoloso e lo tenesse caldo e perché i buchi non fossero visibili. Era una persona delicata. E ancora, come avrebbe aperto la porta e sarebbe uscito sulle scale con una lacrimuccia negli occhi. No, non si poteva permettere che quell'uomo andasse del tutto alla deriva. Provai compassione per lui, ma poi pensavo ecco come farò. Aspetta, mi dicevo. Emelianuska, non potrai gozzovigliare ancora per molto da me. Presto sloggerò da qui e tu non mi ritroverai. Ebbene, signore, sloggiamo. Allora Aleksandre Filimonovic, il mio padrone, ora non è più in vita, pace all'anima sua, mi aveva detto «Sono rimasto molto soddisfatto di te, la Stafi. Quando torneremo tutti dalla campagna non ci dimenticheremo di te e ti riprenderemo con noi». Avevo servito da loro come maggiordomo. Era un signore buono, ma morì proprio quell'anno. Ebbene, dopo averlo accompagnato, presi la mia roba. Avevo qualche soldino e pensavo di riposarmi per un po'. Mi trasferì da una vecchietta e presi in affitto da lei un angolino, l'unico che avesse libero. Era stata anche lei a servizio come bambinaia, ma ora viveva per conto suo e riceveva una pensione. Beh, pensavo, addio Emelianusca caro, non mi ritroverai più. Che cosa credete, signore? Torno a casa verso sera. ero stato a far visita a un conoscente e il primo che vedo è Emelian. Se ne sta seduto sul mio baule con accanto il fagotello a quadretti, nel suo capottino, e mi aspetta. E per la noia ha preso alla vecchia il suo libro di chiesa e lo tiene a testa in giù. E così mi ha ritrovato. Mi sono cadute le brazza, ma poi ho pensato. Non c'è niente da fare. Dovevo scacciarlo fin dal principio e subito ho domandato «Hai portato il tuo passaporto, Emelian?» A quel punto, signore, mi sono seduto e ho cominciato a riflettere. Mi avrebbe dato poi tanto disturbo quel vagabondo e risultò, dopo le mie riflessioni, che non me ne avrebbe dato poi molto. Avrà bisogno di mangiare, pensavo, ma un pezzetto di pane mattino e per renderlo più gustoso occorrerà a comprare una cipollina e a mezzogiorno dell'altro pane con della cipolla e la sera ancora cipolline con del quass e ancora pane se ne vorrà e si capiterà anche un po' di zuppa di cavoli e così saremo tutti e due sazi da morire. Io, quanto al mangiare, non mangio molto e un bevitore, si sa, non mangia nulla. A lui basta che non manchino i liquirini e l'acquavite. Mi darà del filo da torcere con il bere e in quel momento si insinuò nella mia mente un'idea che non mi abbandonò più. Ma sì, se Emelian se ne fosse andato io non avrei avuto di che essere contento della vita e da allora decisi che sarei stato per lui come un padre benefattore. Mi avrei preservato da una fine miserabile, pensavo, e gli avrei fatto perdere l'abitudine del bicchierino. Aspetta un po', dunque, pensavo. «Va bene, Emelian, resta pure. Solo devi comportarti bene e ubbidire al mio volere». E così pensavo fra me. Comincerò ad abituarlo a qualche lavoro, ma non da subito. Prima lascerò che se la spassi un po' e mi guarderò intorno. Cercherò qualcosa per cui Emelian abbia predisposizione, perché per ogni cosa, signore, è necessaria innanzitutto una certa predisposizione. e mi misi di nascosto ad osservarlo. «Lo vedo, Emelianuska, sei un uomo disperato», pensavo. E ho cominciato dapprima con una buona parola. «Così e così», gli dico. «Emelian Gillis, dovresti guardarti un po' e cercare di correggerti. Basta spassarsela. Guardati, vai in giro tutto a brandelli. Il tuo capottino, consentimi di dirlo, andrebbe giusto bene come setazzo. Così non va. Sarebbe ora di pensare al proprio onore. Sta seduto e ascolta a testa bassa il mio Emelianuska. Che volete che dica, signore?» Era giunto a un tale stadio che sembrava essersi bevuto anche la lingua e non riusciva più a dire una parola sensata. Ti metti a parlargli di cetrioli e ti risponde fave. Ascolta e poi sospira. «Emelian Gillis, dico a te, perché sospiri?» «Ma così, per niente, a Stafi Ivanice. Non vi allarmate. Ecco, oggi due donnette a Stafi Ivanice si sono azzuffate per strada. Una ha rovesciato senza volere il canestro dell'altra pieno di kliufchi. e poi Emelian Gillis? E l'altra le ha rovesciato apposta il suo canestro di kliufchi e poi si è messa a pestarle con i piedi. E allora, Emelian Gillis? Ma nulla, Stafi Ivanice. Lo dicevo così, per dire. Nulla, lo dicevo così, per dire. Ah, penso. Emelia, Emeliuska, ti sei bevuto anche la testolina, furia di Baldorie. e poi un signore ha fatto cadere un assegno sul marciapiede della via Gorociovaya o forse era quello della Sadovaia. E Muzic l'ha visto e ha detto che fortuna! Ma in quel momento anche un altro Muzic l'ha visto e ha esclamato no, la fortuna è mia, l'ho visto prima di te. Ebbene, Emelian Gillis e si sono azzuffati a Stafi Ivanice. Ma si avvicinò a una guardia, ha raccolto l'assegno e l'ha ridato al signore. e ha minacciato di metterle in gattabuia tutti e due. Ebbene, che cosa c'è di così edificante, Emelianuska? Ma niente, la gente rideva a Stafi Ivanice. Ehm, Emelianuska, che ti importa della gente? Ti sei venduto la nemuccia per un altin di rame. Ma sai, Emelian Gillis, che cosa ti dico? Che cosa, Stafi Ivanice? Trovati un lavoro qualunque, davvero, trovalo. è la centesima volta che te lo dico. Trovalo, abbi pietà di te stesso. E che lavoro dovrai trovare a Stafi Ivanice? Non so proprio che lavoro potrei trovare. E non mi prenderà nessuno a Stafi Ivanice. E' proprio per questo che ti hanno cacciato dal posto in cui prestavi servizio, Emelian, ubriacone che non sei altro. Ma ecco, oggi hanno chiamato in ufficio Vlas, il ragazzo del buffet, a Stafi Ivanice. E come mai l'hanno chiamato Emelianuska? Ecco, proprio non so perché la Stafi Ivanice. Vuol dire che là avevano bisogno di lui. Ah, penso, siamo perduti, Emelianuska. Dio si punisce per i nostri peccati. Ebbene, signore, che cosa fare con un uomo simile? Però era un tipo furbo. Altro se lo era. Ne ascoltava, ne ascoltava. Ma poi si capiva che gli era venuto a noi a ascoltarmi. Quando vedeva che era in collera, prendeva il suo capottino e se la squagliava e chi si è visto, si è visto. Se ne andava in giro per tutto il giorno e verso sera rincasava a brillo. Chi gli desse da bere, dove riuscisse a trovare il denaro, Dio solo lo sa. E non era certo mia la colpa. No, dico, Emelian Gillic. Non la passerai, liscia. Basta bere. Mi senti? Basta bere. Se un'altra volta tornerai ubriaco, passerai la notte sulle scale. Non ti lascerò entrare. Dopo aver ascoltato le mie disposizioni, il mio Emelian se ne sta a casa un giorno, poi un altro. Ma il terzo se la squaglia. Aspetto, aspetto, ma lui non arriva. Devo confessare che mi viene paura e mi dispiace per lui. che gli ho fatto, penso. L'ho spaventato. E dove sarà mai andato il poverazzo? Finirà male, Dio mio. Viene la notte e non è ancora tornato. Verso mattina esco nell'andito. Guardo e vedo che ha voluto passare la notte sulle scale. Tiene la testa sul primo gradino e se ne starà disteso tutto intirizzito per il gelo. Ma che ti succede, Emelian? Che Dio sia con te. Dove sei finito? Ma voi giorni fa eravate così arrabbiato a Staff Ivanice, eravate così amareggiato e mi avevate promesso che mi avreste fatto dormire nell'andito. Così io non ho avuto il coraggio di entrare a Staff Ivanice e mi sono disteso lì. Rabbia e pietà si impadronirono di me. Ma tu, Emelian, dovresti proprio cercarti un altro impiego. Perché ti sei messo a fare il guardiano delle scale? Ma quale altro impiego dovrei cercare, Staff Ivanice? Ma se tu, anima derelitta che non sei altro, mi montava la rabbia, imparassi almeno il mestiere del sarto. Non vedi che cappotto hai. Non basta che sia tutto un buco. Ti metti a scopare pure le scale. faresti meglio a prendere l'ago e a rattopparti. Come l'onore impone, eh, ubriacone. E chi l'avrebbe mai detto, signore? Prese davvero l'ago. Io gliel'avevo detto per scherzo, ma lui si era intimorito e l'aveva preso sul serio. Si era tolto il cappottino e aveva iniziato a infilare il filo nel lago. L'osservavo. Si sa che cosa succede in simili casi. Gli occhi sono cisposi, arrossati, le mani gli tremano. Non ci riesce. Prova e riprova, ma il filo non entra. Strizza gli occhi, si inumidisce con la saliva le dita. Ma no, non ci riesce. Abbandona tutto e mi guarda. Su, Emelian, fammi il favore. Se fosse venuto in presenza ad altri, ti avrai tagliato la testa. Te l'avevo detto per scherzo, uomo ingenuo che sei, per darti una lezione. e ora va, va con Dio. Stai lontano dal vizio. Resta pure seduto, ma evita di compiere azioni di cui potresti vergognarti. Non per lottare sulle scale e non coprirmi di vergogna. Ma che posso fare, Stafi Vanis? Non mi accorgo, forse, di essere sempre ubriaco, di non saper far nulla. Sono capace solo di far arrabbiare inutilmente voi, il mio benefattore. E a un tratto cominciarono a tremargli le labbra livide. Gli sese una lacrimuccia lungo le guancia pallide e questa lacrimuccia che gli tremolava sulla barba non fatta, il mio Emelian la trasformò in un pianto adirotto, in un vero fiume di lacrime. Dio del cielo, fu come se la lama di un coltello mi sfiorasse il cuore. Eh, che uomo sensibile sei. Non avrei mai pensato. Chi l'avrebbe detto? Chi poteva intuirlo? No, Emelian, credo che rinuncerò a te. Va, va pure alla deriva come un relitto. Ebbene, signore, vi sarebbe ancora molto da raccontare. Tutta la faccenda è così sciocca, così misera, che non vale la pena di parlarne. Cioè, voi, signore, non dareste neppure due soldi bucati, mentre io invece ne darei parecchi se avessi tanto denaro, perché tutto ciò non fosse accaduto. Avevo, signore, un paio di calzoni che il diavolo se li porti. Un paio di bellissimi, magnifici calzoni blu, a quadretti. Me li avevo ordinati un possidente che era venuto qui, ma poi non li aveva più voluti. Diceva che erano stretti e così erano rimasti a me. Pensavo, sono un capo di valore. Annercato a Tolcucci mi daranno almeno cinque rubli e se non me li daranno ne ricaverò due paia di pantaloni alla moda pietro-burghese e mi resterà ancora un avanzo per un panciotto. Come sapete, la povera gente non spreca nulla. Per Emelianuska era allora cominciato un periodo triste e difficile. Lo osservavo. Non beve un giorno e poi un altro e il terzo non prese neppure una goccia di alcol. Appariva inebetito, faceva pena, sedeva tutto avvidito. Bene, pensavo, o non hai denaro per comprarti da bere o ti sei messo sulla retta via e hai detto basta, hai ubbidito al buonsenso. Ecco, signore, fu così che andò. Si era alla vigilia di una grande festa. Andai in chiesa alla funzione serale e poi rincasai. Il Emelian stava seduto sulla finestra, brillo, e barcollava. Ah, ah, ecco in che stato sei, ragazzo, pensai, e chissà perché decisi di guardare dentro il baule. Guardo, i calzoni non ci sono. Cerco qui e là, spariti. Dopo averlo vistato ed essermi accorto che non c'erano proprio, avverti come una stretta al cuore. Mi precipitai dalla vecchietta e da principio la calunnai facendole un torto. Ma su Emelian che sedeva ubriaco, benché vi fossero degli indizi, non nutrivo alcun sospetto. No, diceva la vecchietta. Dio sia con te, cavaliere. Che me ne faccio io dei calzoni? Posso forse indossarli? Anche a me, giorni fa, è sparita una gonna. Se non è quel brav'uomo di vostro fratello. Beh, insomma, non ne ho la più pallida idea, diceva. Chi è stato qui? Chi è venuto? Ma nessuno, diceva. Non è venuto proprio nessuno, cavaliere. Sono sempre stata qui. Emelian Gillic è uscito e poi rincasato. Eccolo, è seduto lì. Chiedetelo a lui. Non li hai presi per caso tu, perché ti occorrevano i miei calzoni nuovi, quelli che avevo cucito per l'ipossidente. No, basta a Fivanic, diceva Emelian, cioè, io non li ho presi. Che fatto strano. Ricominciai a cercare. Frugai. Frugai, ma non c'erano. Emelian stava seduto traballante e io, signore, mi accoccolai di fronte a lui, sul baule e mi mise a guardarlo di sottecchi. Ahimè, pensavo, e tutto a un tratto mi sentì il cuore in fiamme. Mi salì persino il sangue alla testa. All'improvviso Emelian mi guardò. No, la staffa Ivanis, voi potete pensare chissà cosa, ma io i vostri calzoni non li ho presi. Ma dove sono potuti sparire allora, Emelian Gilic? No, a staffa Ivanis, io non li ho proprio visti. E allora, Emelian Gilic, vorrà dire che sono spariti da soli, dato che non ci sono. Può darsi che siano spariti da soli, a staffa Ivanis. Dopo averlo ascoltato, mi alzai, mi avvicinai alla finestra, accesi il lume e mi misi a cucire. Rimodernavo il panciotto di un impiegato che viveva sotto di noi. Ma qualcosa continuava a bruciarmi e a farmi male. Mi sarebbe costato di meno gettare nella stufa l'intero guardaroba. Sembrava che Emelian avvertisse la rabbia che si era impadronita di me. Il fatto è che quando il uomo è colpevole del male che ha commesso, fiuta già da lontano la sventura, come l'uccello del cielo, il temporale in arrivo. Ecco, Stafi Vanitz cominciò con la voce tremante Emeliuska. Oggi Antipa Percorice, l'infermiere, si è sposato con la moglie del cocchiere che è morto giorni fa. Io gli lanciai un'occhiata così adirata che Emelian capì. Vidi che si alzava, si avvicinava al letto e si metteva a frugare. Traficò a lungo, non la finiva mai e continuava a ripetere. No, non ci sono, non ci sono. Ma dove saranno spariti quei birbanti? Aspettavo per vedere che cosa sarebbe accaduto. Osservavo Emelian strisciare carponi sotto il letto. Non mi tratteni più. Ma perché, Emelian Ghillitz, vi siete messo a strisciare? Cerco se vi siano per caso i calzoni, a Stafi Vanitz. Bisogna guardare se non siano finiti in qualche posto. Ma che vi prende, signore? Dalla stizza avevo cominciato a dargli del signore. Perché vi mettete ad aiutare un poveruomo come me? Perché vi consumate le ginocchia a furia di dimenarvi sotto il letto? Ma perché no, a Stafi Vanitz? Non fa nulla. Forse salteranno fuori se li cerchiamo. Ascolta dunque, Emelian Ghillitz. Che dite, a Stafi Vanitz? Ma non sarai stato tu a rubarmeli semplicemente, come un ladro e un furfante, a rendermi questo servizio in cambio dell'ospitalità che ti ho dato? Ecco, signore, mi aveva fatto inalberare mettendosi a strisciare così davanti a me sul pavimento. No, signore, a Stafi Vanitz. Rimase come si trovava, carponi sotto il letto. Mi restò a lungo, poi uscì fuori strisciando. Lo guardai. Era pallido come un lenzuolo. Si alzò. Si mise a sedere accanto a me sulla finestra e restò così per una decina di minuti. No, a Stafi Vanitz. E tutt'un tratto si alzò e mi venne vicino, orribile come il peccato. No, a Stafi Vanitz. I vostri calzoni non li ho presi io. Tremava tutto e col dito tremante si batteva il petto. La voce gli tremava talmente che restai come inchiodato alla finestra. Ebbene, Emelian Illitz, come volete. Perdonate se io, come uno sciocco, gli ho rimproverato senza ragione alcuna. I calzoni saranno senz'altro spariti. Sopravviveremo anche senza di loro. Le mani certo non ci mancano e non andremo certo a rubare né a mendicare da un pover'uomo. Ci guadagneremo il pane. Emelian mi ascoltò. Stette davanti a me a lungo e poi mi accorsi che si era seduto. Restò seduto per tutta la sera. Non si mosse. Era già andato a dormire ma Emelian continuava a stare seduto sempre allo stesso posto. Soltanto verso mattina guardai. Era disteso sul pavimento nudo avvolto nel suo misero cappotto. Si sentiva troppo umiliato per andare a curicarsi nel letto. Ebbene, signore cominciai a non amarlo più da quel momento. Anzi nei primi giorni lo detestai. Era tanto per dire come se uno dei miei figli mi avesse derubato arrecandomi un'offesa mortale. Ah, pensavo Emelian Emelian Ma Emelian da due settimane era ubriaco fradicio. Cioè si era lasciato del tutto andare nel bere. Usciva al mattino e rincasava a notte fonda e in quelle due settimane non udì mai una parola da lui. Cioè vero è che il dolore lo straziava e che cercava in qualche modo di distruggersi. Poi finalmente basta cessò di bere. Si era bevuto tutto ciò che aveva e si rimise a sedere sulla finestra. Ricordo che stette seduto in silenzio per tre giorni e tre notti e a un tratto lo guardai. Stava piangendo. Cioè stava seduto signore e piangeva. Come piangeva? Come una fontana. Le lacrime gli sgorgavano e lui pareva non sentirle. È penoso vedere un uomo adulto un vecchio per di più come Emelian piangere per il dolore e la tristezza. Che hai Emelian gli dico? Cominciò a tremare in tutto il corpo e sussultò persino. Era la prima volta che da quel giorno gli rivolgevo la parola. Non è nulla a Stafi Vanitz. Io sia con te Emelian che si perda pure tutto quanto. Perché te ne stai lì così abbattuto? Cominciavo a provare pena per lui. Così a Stafi Vanitz non è per quello. Voglio trovarmi un lavoro qualunque a Stafi Vanitz. Quale lavoro vorresti Emelian Illitz? Così un lavoro qualunque. Forse troverò un impiego come l'avevo prima. Sono già andato a domandarlo a Fiedosia Ivanitz. Non sta bene che vi offenda a Stafi Vanitz. Io a Stafi Vanitz forse troverò un impiego e allora vi restituirò e vi darò un compenso per il vitto. Basta Emelian basta. Ebbene prima c'era il vizio ma ora è finita che non se ne parli più. Ritorniamo a vivere come prima. No signore a Stafi Vanitz voi forse credete ma non sono stato io a prendere i vostri calzoni. Beh come vuoi Dio sia con te Emelianuska. No signore a Stafi Vanitz è evidente che non sono più il vostro inquilino. Mi dovete scusare a Stafi Vanitz ma che Dio sia con te ti dico chi vuole offenderti Emelian Gilitz chi avrebbe intenzione di scacciarti io forse non è decoroso vivere così in casa vostra a Stafi Vanitz è meglio che me ne vada cioè quell'uomo si era mortalmente offeso e aveva già accomodato tutto. lo osservavo lui si alzò davvero in piedi e si tirò sulle spalle il suo capottino ma dove te ne vai così Emelian Gilitz abbi giudizio ragiona che fai dove vuoi andare no addio a Stafi Vanitz non cercate di trattenermi e di nuovo pignocolava no andrò via lontano dal vizio a Stafi Vanitz voi non siete più quello di un tempo ma come non sono più lo stesso ma tu sei come un bimbo senza giudizio ti perderai da solo Emelian Gilitz no a Stafi Vanitz voi ora quando uscite chiudete il baule a chiave e io a Stafi Vanitz vi vedo e piango no è meglio se mi lasciate andare via a Stafi Vanitz e perdonatemi per tutto per tutte le offese che vi ho recato durante la nostra convivenza che ne dite signore quel buomo se ne andò aspettai un giorno pensando che la sera sarebbe tornato ma nulla e così il secondo e il terzo giorno ero spaventato e l'angoscia mi tormentava non bevevo né mangiavo né dormivo quel buomo mi aveva del tutto disarmato il quarto giorno presi a girare da un'osteria all'altra davo un'occhiata domandavo ma Emelianus che era sparito non ci avrai già rimesso la vita quella tua vita di sennata pensavo può darsi che tu sia crepato davanti a qualche steccato ubriaco e che ora tu la salì come una trave marza rincasai più morto che vivo e il giorno successivo tornai a cercarlo e mi maledicevo per aver lasciato che quello sciocco se ne andasse liberamente da casa mia ma il quinto giorno era un giorno di festa sentii zigolare la porta e vidi Emelian che entrava livido i capelli infangati come se avesse dormito per strada era scarno come un chiodo si tolse il cappottino e si sedette accanto a me sul baule ero contento ma l'angoscia mi opprimeva anche di più l'animo ecco di che si trattava signore se avessi avuto un simile vizio giuro che piuttosto sarei crepato come un cane ma non sarei tornato ma Emelian era tornato e naturalmente è penoso vedere un uomo in simili condizioni presi a vezzeggiarlo coccolarlo e confortarlo ebbene gli dicevo Emelianuska sono felice che tu sia tornato se avessi tardato ancora un po' a tornare sarei andato a cercarti anche oggi per le osterie hai mangiato sì ho mangiato a Stafi Vanits ma hai mangiato abbastanza ecco è rimasta un po' di minestra di cavoli di ieri fratellino c'era anche del manzo dentro non è semplice zuppa ed eccoti una cipollina con i pane mangia ti dico non può farti male alla salute mi servì il cibo e in quel momento mi accorsi che non doveva aver mangiato da tre giorni tale era l'appetito che mostrava quindi era stata la fame a spingerlo da me mi intenerì guardando il poveretto e perché no pensai farò una corsa alla bottiglieria gli porterò qualcosa che gli renderà il cuore più leggero e così basta la faremo finita gli portai del vinello ecco dicevo emelian gilliz beviamo è festa ti farà bene tese la mano l'aveva attesa avidamente ma stava per prendere il bicchiere quando si fermò aspetta un po' lo guardai prese il bicchiere lo portò alla bocca ma il vinello gli colava sulle maniche non riuscì a portare il bicchiere alla bocca e subito tornò a posarlo sul tavolo che hai emelianuska ma niente io non lo bevi io la stafi vanis ecco non voglio più bere la stafi vanis quando ti sei deciso a smettere emelianuska o è solo oggi che non bevi taceva lo guardai dopo un istante posò il capo sul braccio che hai ti sei forse ammalato emelianuska beh non mi sento bene a stafi vanis lo presi e lo adagiai sul letto lo osservai era davvero magro la testa gli bruciava e la febbre lo faceva sussultare rimase il suo capezzale tutto il giorno la notte peggiorò idea di del kvas che avevo condito con del burro e della cipolla e vi sbriciolai del pane ebbene gli dissi mangia un po' di zuppa ti farà sentire meglio scuoteva la testa no diceva oggi non pranzerò a stafi vanis gli preparai del tè sfinì completamente la vecchietta non c'era nulla di meglio ebbene pensavo va male il terzo giorno di mattina andai dal dottore nelle vicinanze abitava il medico Costopravof un mio conoscente avevo fatto la sua conoscenza quando stavo a servizio dai signori Bosomiacin mi aveva curato il medico venne e lo visitò è grave disse non c'era ragione di chiamarmi ma forse gli darò delle polverine ma non gliele diede e così pensavo il medico forse avrà scherzato e intanto si giunse al quinto giorno stava disteso signore davanti a me e si spegneva io sedevo alla finestra con il lavoro in mano la vecchietta accendeva la stufa tutti tacevano il cuore mi si spezzava per lui per quel beone signore come se stessi seppellendo uno dei miei figli sapevo che Emelian mi stava guardando mi ero accorto fin dal mattino che cercava di farsi forza che voleva dirmi qualcosa ma che evidentemente non ne aveva il coraggio alla fine gli lanciai un'occhiata vedi che vi era una tale angoscia negli occhi del poveretto non distoglieva da me il suo sguardo quando si accorse che lo guardavo subito abbassò gli occhi a Stafi Ivanis cosa c'è Emeliuska ecco se per esempio si portasse il mio cappottino al Tolcucci pensate che mi darebbero parecchio a Stafi Ivanis beh non si sa si darebbero proprio parecchio ma forse tre rubli li darebbero Emelian Gillis ma se l'avesse portato davvero non gli avrebbero dato niente gli avrebbero solo riso in faccia e gli avrebbero domandato come poteva immaginare di vendere un indumento così malconcio l'avevo detto solo per confortare quel santuomo conoscendo la sua indole ingenua e io che credevo che avrebbero dato tre rubli d'argento per il mio cappottino a Stafi Ivanis è un indumento di panno come mai solo tre rubli di carta sei di panno a Stafi Ivanis non so gli dico Emelian Gillis se vuoi portarlo al mercato sarà bene chiedere subito tre rubli come prima offerta Emelian tacque per un po' poi mi chiamò di nuovo a Stafi Ivanis che c'è gli chiedo Emelius che vendete il mio cappottino quando sarò morto non dovete seppellirmi con esso posso essere seppellito anche così è un indumento di valore potrebbe tornarvi utile in quel momento signore il cuore mi si strinse in modo indicibile vedevo che quell'angoscia che precede la morte cominciava a impadronirsi dell'uomo trascorse così un'ora lo guardai di nuovo non mi toglieva gli occhi di dosso e quando incontrai il suo sguardo abbassò da capo gli occhi non volete bere dell'acqua Emelian Gillis datemene un sorso Dio sia con voi a Stafi Ivanis gli portai dell'acqua ne beve un sorso vi ringrazio a Stafi Ivanis non avete bisogno d'altro Emelianuska no a Stafi Ivanis non mi occorre nulla ecco io che cosa ecco che cosa Emelianuska i vostri calzoni ero stato io a prenderli allora a Stafi Ivanis ebbene gli dico Dio ti perdonerà Emelianuska mio povero infelizio riposa in pace mi mancò il respiro e mi sciolsi in lacrime gli voltai per un minuto alle spalle a Stafi Ivanis lo guardai Emelian voleva dirmi qualcosa si sollevò si sforzò mosse le labbra a un tratto divenne tutto rosso e mi guardò poi di colpo vidi che si faceva di nuovo pallido pallido ricadde indietro per un istante rovesciò la testa fece un ultimo respiro e rese l'anima a Dio per un'anima a Dio Grazie a tutti.